Parliamo con Antonella Bruzzo, insegnante di scuola dell'infanzia di Gemone del Friuli. Antonella Bruzzo è una esponente del CIDI e per conto del CIDI coordina un gruppo nazionale sui problemi del segmento 06, del sistema di istruzione ed educazione da 0 a 6 anni. Negli ultimi giorni è stato reso noto un importante documento che è il documento sono le linee pedagogiche per il sistema 06 e con lei di questo parliamo. Allora, senta maestra, intanto una prima questione, ma queste linee pedagogiche che cosa rappresentano, che cosa sono? Allora, queste linee pedagogiche costituiscono, credo, una cornice culturale di riferimento per chi opera appunto nel settore 06 e mi sembra rilevante che queste linee riconoscano la diversa identità dei due segmenti 0-3 e 3-6 che hanno una storia, che hanno alle spalle dei percorsi veramente particolari e diversi. Era molto importante salvaguardare l'identità dei due segmenti. Difatti, quando era uscita la delega, la legge 107, c'erano state molte perplessità rispetto al sistema integrato 06. Direi che questo documento, che mi sembra di alta qualità, proprio da un punto di vista pedagogico e delle idee che rilancia, si possa costituire un riferimento importante per pensare ad un curriculum che inizi veramente a 0 anni, quando un bambino è molto piccolo, quando è piccolissimo, per riuscire a favorire appieno quelle che sono tutte le potenzialità di un bambino e le sue competenze. Ci sono alcune idee rilevanti, quali ad esempio la centralità dei bambini, riconosciuti come soggetti di diritti e quindi anche come possibili, perché possano esercitare appieno il loro anche diritto di cittadinanza, di essere cittadini attivi fin da così piccoli. E questa mi sembra un'idea veramente importante. Parlando delle linee pedagogiche, c'è una questione sulla quale vorrei saperne qualcosa di più da lei, e cioè il tema del linguaggio. Si parla nelle linee pedagogiche del problema dello sviluppo del linguaggio del bambino, perché questo è un tema assolutamente rilevante. Nei primissimi anni di vita il bambino costruisce una parte considerevole del suo patrimonio linguistico, quindi è una fase molto importante che pone le basi anche per tutto lo sviluppo successivo. Lei pensa che ci sia spazio per dare attenzione a questo particolare? Allora, nelle linee pedagogiche non è trattato in modo specifico, perché chiaramente non entrano poi nel dettaglio, però sicuramente c'è spazio, perché parlare di curriculum vuol dire proprio disegnare degli itinerari, dei percorsi, che vadano a sostenere il bambino nella costruzione di tutte le sue competenze, e quelle riguardanti il linguaggio e le espressioni di sé sono sicuramente molto rilevanti. Il tema del linguaggio sicuramente è già presente in documenti che le linee pedagogiche non sostituiscono, quali ad esempio le indicazioni nazionali 2012, per cui il campo d'esperienza e discorso e le parole è molto importante, e per i nidi probabilmente sono già al tema del linguaggio, nei progetti educativi dei nidi, delle migliori realtà di nido, e lì si stanno attendendo gli orientamenti educativi per il nido, che devono essere elaborati e che saranno anche questi, un riferimento importante per lo 0-3. Attualmente la legge, la delega, è finanziata con risorse economiche significative. Secondo lei sono sufficienti o ce ne vogliono di più? Tenuto conto che gli asili nido sono strutture molto costose, sia per essere costituite, ma anche per essere poi gestite? Io credo che le risorse previste siano assolutamente insufficienti al momento, ce ne vogliano sicuramente di più, sicuramente di più, proprio perché, come dice lei, i nidi sono un servizio costoso, ma se pensiamo, e questo lo ribadiscono le linee pedagogiche, che dovrebbe essere un diritto di ogni bambina e di ogni bambino il poter accedere a un asilo nido, credo che le risorse pensate finora non possano bastare. Adesso c'è l'obiettivo di arrivare al 33% di diffusione dei nidi nei vari territori, sapendo che c'è una grandissima varietà tra un territorio e l'altro, non c'è assolutamente una omogeneità e una distribuzione equa, diciamo, degli asili nido, vi sono territori dove si arriva addirittura alla copertura solo del 2% in Calabria, in alcune regioni, mentre in altre regioni c'è storicamente una tradizione di nidi e c'è una cultura dell'infanzia che ha fatto sì che i nidi fossero presenti già da molto tempo. A questo proposito però le pongo anche questo problema, soprattutto per quanto riguarda la fascia 0-3 anni. Lei pensa che sia soltanto un problema di risorse o non c'è forse anche un problema di carattere culturale? Cioè non c'è forse anche il tema che le famiglie dovrebbero essere rese maggiormente consapevoli dell'alto valore culturale, pedagogico ed educativo degli asili nido? Beh, credo che anche questo dipenda molto dalle terragionalità culturali dei territori, nel senso in alcune realtà sicuramente c'è questo problema, non esiste una cultura reale dell'infanzia e quindi una consapevolezza sull'importanza per un bambino fin da molto piccolo di partecipare a un contesto di pari qualitativamente connotato da un punto di vista appunto educativo e pedagogico. Purtroppo questo è una cosa su cui lavorare, sicuramente su cui lavorare, mentre in altre realtà c'è una richiesta di nidi anche proprio perché c'è una consapevolezza dell'importanza di questo servizio. In alcune realtà ci sono le liste d'attesa, mentre in altre no, non c'è la richiesta. Per cui è molto variegata la realtà del territorio italiano rispetto a questo. Parliamo di un tema molto importante che mette in evidenza già la delega del 2017, cioè la questione dei poli educativi. Diciamo che sul tema del polo educativo è un po' costruito tutto il decreto legislativo. Come sono andate le cose in questi anni? Cioè qualche polo educativo è stato costruito? Lei pensa che sia la strada giusta? Si devono percorrere altre vie? I poli educativi previsti dalla delega e dal decreto sono delle realtà, credo che ce ne siano pochissimi attualmente sul territorio che si sono stati istituiti, in cui i servizi 03 e 36 sono intanto in uno spazio, in un edificio, sono vicini proprio a livello fisico, in uno spazio fisico abbastanza, e questo per favorire degli itinerari in continuità, per cui possono essere effettivamente uno spazio di sperimentazione interessante. Io credo che in diverse realtà già negli anni passati ci siano stati comunque dei contatti tra il servizio asilo nido e le scuole dell'infanzia, o a livello di scambi formativi o di ricerca anche professionale tra educatori ed insegnanti, in alcune poche realtà, sia per scambi di informazioni su quello che avveniva nei nidi e quello che avveniva nelle scuole dell'infanzia, proprio per costruire un migliore raccordo di percorsi, sia a volte anche con alcuni momenti di attività in comune, o bambini che hanno frequentato il nido, che tornano al nido, a vederlo dopo un po' di mesi di scuola dell'infanzia e fanno delle cose insieme. Per cui ci sono già stati, ci sono anche se abbastanza limitati e rari questi momenti. Credo che possono essere interessanti proprio perché per un confronto, per un confronto e un reciproco arricchimento, cercando che ci sia una buona contaminazione tra le migliori pratiche del nido e delle scuole dell'infanzia. Aspetta, andiamo alla fine del percorso 06, quindi parliamo dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia. La questione dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia è sempre molto dibattuta. C'è chi lo vorrebbe obbligatorio, chi no. La vostra posizione come CIDI, qual è? Allora, la nostra posizione come CIDI non abbiamo veramente una posizione unitaria, credo, su questo. Ne abbiamo, forse è un tema che dobbiamo affrontare e su cui potremo discutere. Io credo che però la cosa principale sia questo, la generalizzazione veramente della scuola dell'infanzia in tutti i territori. C'è una buona copertura sicuramente, nel senso, c'è una buona, tantissimi, la maggioranza di bambini è frequente a una scuola dell'infanzia. Però la generalizzazione e la qualificazione delle scuole dell'infanzia perché ci sono anche lì realtà che hanno delle condizioni, magari anche soltanto le condizioni logistiche, non sono delle migliori, voglio dire, edifici, spazi e quant'altro. E credo che sia importante attualmente investire soprattutto in questo, soprattutto in questo. e forse mi permetto di aggiungerlo io, c'è anche il tema che a cui voi, come ci ritenete molto, non da oggi, ma da tempo immemorabile, che il curriculum deve essere un curriculum che parte dai tre anni, anzi adesso addirittura da zero anni, e che va almeno fino alla fine della scuola dell'obbligo. È così? Certo, 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 sicuramente è così, anche quando parlavo prima di continuità del percorso, intendevo proprio un curriculum che accompagna un bambino o una bambina da quando entra, speriamo al nido, fino a quando conclude il suo percorso formativo scolastico. Bene, ringraziamo Antonella Abruzzo del Cidi per questa interessante chiacchierata, abbiamo messo a fuoco alcuni problemi relativi al segmento, al sistema 06, sicuramente ci ritorneremo ancora. Grazie. Grazie.